Tra pochi giorni alunni e studenti torneranno sui banchi di scuola. Questa mattina, come ormai da tradizione, si è tenuta la conferenza inaugurale dell'anno scolastico 2015-2016 per le scuole di lingua tedesca. Nell'aula magna del liceo Walter von der Vogelweide, l'assessore provinciale alla scuola e cultura e lingua tedesca Philippa Hammer e l'intendente scolastico Peter Holrigl hanno fatto il punto della situazione augurando a tutti, studenti, insegnanti e dirigenti, un buon lavoro, anche perché l'anno che si appresta ad iniziare sarà un anno di cambiamenti. Sarà necessario fare una riforma di istruzione a causa della riforma alla buona scuola dello Stato e dovremo vedere nei prossimi sei mesi come implementare questa riforma nel nostro sistema e anche i punti centrali di questa. Per garantire la massima stabilità e continuità nell'insegnamento le tre intendenze scolastiche, quella italiana, tedesca e ladina, hanno prestato molta attenzione. Penso che abbiamo fatto di tutto per avere più continuità didattica, più di 400 ruoli a tempo indeterminato sono stati assegnati nelle ultime settimane più degli anni passati e questo è assolutamente importante soprattutto per i giovani insegnanti e questo procederà anche negli anni prossimi. Molto importante per ottenere buoni risultati, come sottolineato da un insegnante, sarà la motivazione che dovranno avere docenti e studenti nell'affrontare questo nuovo anno scolastico. Spero di avere studenti motivati, colleghi motivati, un clima di lavoro motivante e motivato.